c'è un foglio di carta tutto bianco e liscio che è un po' stufo di non essere colorato e di stare sempre fermo mi piacerebbe dice poter diventare con altri miei fratelli un bel libro dove i personaggi si possono anche muovere parlare e raccontare una storia avrò questa fortuna forse se qualche bimbo anche con l'aiuto di un grande mi prenderà e seguirà le istruzioni potrò realizzare il mio sogno il mio sogno il mio sogno il mio sogno è 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